Amici miei, abbiamo molto di cui essere grati. Il Signore degli Stregoni è stato sconfitto. Il suo esercito di non morti dorme nelle viscere della terra. La magia che li animava è stata indebolita, ma questa vittoria potrebbe portarci alla disfatta, se allentassimo la presa. Ora che il nostro nemico è debole, dobbiamo rinnovare i nostri sforzi, diventando ancora più forti tutti insieme. Gli scagnozzi del Signore degli Stregoni che sono scampati alla loro sorte cercheranno sicuramente vendetta su chi ha sconfitto il loro maestro. Difatti il loro tomo mi ha mostrato che Skulmar, che credevamo fosse stato ucciso, è riuscito in realtà a fuggire dalle rovine di Kalos con molti dei più potenti libri di incantesimi del Signore degli Stregoni. Temo che non passerà molto tempo prima che dobbiate affrontare Skulmar e tentare di porre fine a tale minaccia per sempre. Ma ora vi siete guadagnati un po' di riposo. Quindi venite, miei coraggiosi eroi. Il re vi aspetta al Gran Palazzo. Questa sera sarete onorati per le vostre incredibili gesta eroiche.